Marco Capanna oggi allenatore del Cosenza, palanuoto femminile ma allenatore per 11 anni di Giulia Emolo e Giulia Gorlero. Un'esperienza che rimane quando questa piscina imperia era trionfante per i successi riportati. Lo Scudetto, la Coppa Lenna, tutti firmati Capanna e firmati quelle ragazze. Oggi cosa c'è nel cuore di Marco vedendo queste ragazze con l'argento olimpico? Un'immensa gioia perché so più di tanti quanto lo meritano come persone e come atlete e quindi sono il loro grande tifoso e lo sarò sempre. Mi è piaciuto vedere una città collegata a seguire le loro imprese, hanno fatto un'impresa incredibile e poi questo è il coronamento più grande per un atleta. E visto che noi abbiamo fatto un percorso dove sognavamo di diventare grandi, di giocare per le cose importanti, abbiamo avuto la fortuna. Io ho avuto la fortuna di allenarle e di condividere tanto, più che vederle veramente affrontare una finale olimpica. Non c'è soddisfazione più grande per loro perché in questo momento non credo che sia giusto che i meriti cerchino di prenderseli un po' tutti. Ma sicuramente quello che abbiamo vissuto qua in Peria, le persone che hanno reso possibile che qua ci fossero condizioni tecniche importanti, mi ricordo Lucio Carli. Ci sono tante persone che hanno contribuito a far sì che due ragazze diventassero grandi a Peria e che poi si levassero le soddisfazioni e continuassero a farlo anche fuori dimostrando il loro valore. E anche grazie a quelle persone, a persone, tu hai citato Lucio Carli, ma io cito Marco Capanna, che hanno lavorato, che hanno contribuito a farle crescere. Quindi non è assolutamente togliere dei meriti perché le medaglie d'argento sono di Giulia Emmolo e Giulia Correro e non si discute. Ma è bello anche condividere la soddisfazione con chi ha fatto qualcosa, ha seminato negli anni passati, Marco. Sono un testimone loro, io sono contento anche per Francesca Pomeri che è cresciuta qua e ha fatto parte di questo percorso, mi ha seguito a Cosenza, si è conquistata le Olimpiadi secondo me seguendomi a Cosenza. Quindi io sono un grande loro tifoso e stimatore. Fra l'altro abbiamo fatto un percorso dove loro forse hanno preso il peggio di me perché erano i miei primi anni, abbiamo fatto un percorso dalle categorie inferiori e tutto. Siamo cresciuti insieme, però sempre con il sogno di battere i più bravi o di essere i più bravi di tutti. E loro che hanno qualità ci hanno messo quel di più che poi è diventato realtà nel livello massimo che è quella nazionale alle Olimpiadi, arrivando a fare una finale per loro, vincendo un argento che è con un percorso incredibile. Quindi bravissime loro e credo che sia veramente una soddisfazione che si devono tenere per loro, condividerla con la città, ma è veramente merito solo loro. Viva le due Giulie, bravo! Sicuramente viva per sempre le due Giulie.